Buon compleanno Emporio! Fino al 30 giugno, sconto del 10% su tutti i prodotti. Da parco giochi a bomba ecologica, amianto interrato coperto solo da bustoni di cellofan sotto i balconi delle abitazioni di Contrata Quattrograna. Da due anni, secondo i residenti, è stata segnata e accertata dall'ASL il deposito di rifiuti tossici almeno in tre aree di un terreno su cui, secondo le intenzioni del comune, doveva essere realizzato un parco per i bambini del rione. Ma nonostante il degrado e la pericolosa presenza di amianto ammassato nell'erbaccia a distanza di tempo, nessuno è intervenuto per rimuovere il percoroso materiale, denunciano i cittadini. Amianto, hanno venuto a fare pure dei saggi, hanno venuto a mettere i dentoni sopra per coprire questa immondizia, diciamo, chiamavano immondizia. E qua stanno pure i bimbi che dovevano venire a fare un parco giochi qua per i bimbi. Ah, un parco giochi? Sì, e anche qua stanno mal messi qua perché stanno di tutti. Quanto tempo fa è venuta l'ASL a segnalare? L'ASL qua è venuto due anni fa. Sì. Sono già due anni. E segnalò la presenza di amianto? Sì, e segnalò la presenza di amianto. Però ancora adesso stanno ancora a terra questi morti. E voi ovviamente ne avete pagate le conseguenze? Sì, perché qua stanno pure i parecchi bimbi che vengono a giocare qua dietro. Noi non sappiamo come dobbiamo fare noi perché stanno ancora questi morti a terra. Sì. Abbiamo fatto parecchie segnalazioni, vedi che stanno facendo parecchio erba, stanno tagliando. Allora, posso fare prima qua dietro che stanno questi morti? Ma è molto, ma molto pericoloso. Ci sono i bambini che respirano proprio sporchizia. Ci sono topi. Secondo me si deve prendere una decisione. Il comune si deve un pochino muovere a togliere tutti questi immondizi. Perché non si può vivere così. Ma con l'amianto poi avete paura? Sì. Per la vostra salute, non? Sì, sì. L'amianto sotto casa. Ci sono molte malattie adesso che corrono. Non possiamo rimanere a questo rischio. Io ho loro che soffrono di asma, soffrono proprio di... L'altro ieri l'ho portata a vaccinare, vi ho detto tutto. Grazie.